Ciao, sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Remax. Oggi mi trovo in Via Marentino 140 in un contesto particolare perché questo immobile è un immobile accadastato come cantina, come C2, però è stato ristrutturato come appartamento. Tant'è che essendo parzialmente fuoriterra c'è anche questa opportunità di avere questo corte esterna privata oltre il cancello dove è possibile parcheggiare e internamente è composto come un soggiorno con angolo cottura, il disimpegno da questo lato, la prima camera, tutte le finestre come vedete è abbastanza ben illuminato nonostante sia un piano seminterrato. Questo è il bagno e questa è la camera. Questa soluzione potrebbe essere interessante perché potrebbe essere un investimento, potrebbe essere un punto di appoggio per uno studio oppure avendo in vendita l'appartamento proprio qui sopra potrebbe essere un modo di ampliare la superficie dell'appartamento. Per qualsiasi informazione in più non esitate a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.